C'è Pibio che ha scritto bellissimissimi, l'ha scritto bello in grande. E Mario è singolo. Grazie Pibio. Somigliacqua a me, te lo dico a Gesù Momoa, lo dicono tutti, l'ha detto anche lui su Facebook, quindi ormai... Anche Gesù Momoa ormai, anche lui l'ha detto, anche lui lo ammette. Ecco, diciamo appunto Pibio, a volte se mi dimentico di farvi le domande, voi comunque controlizzate noi chat, che va più che bene, così almeno interagite più voi, e sennò io poi finisco senza voce. E dice Pibio, l'origine del nome, perché cercando anche in un'epoca di search engine, io ho fatto delle ricerche, salta fuori Goebbels, Eichmann e compagnia cantante, che non è tanto bello. Quindi Gabriele si è offerto di rispondere a questa domanda. Voglio togliere qualsiasi dubbio riguardo, siamo nazisti. No, no, non è vero, non è vero. E metà mondo non ci ascolta più. È successo perché nel momento in cui bisognava decidere il nome della band, eravamo abbastanza sotto da Black Label Society, quando dico eravamo, intendo ero, abbastanza sotto da Black Label Society. Con la webcam, giusto. Era questo pezzo chiamato Final Solution. Poi se Zack Wilde, il grande Vate, sia sotto di Goebbels e compagnia cantante, quello è un altro discorso a noi. Piazzavano, piaceva il Goebbels e il nome sovversivo. Sai che Lemmy indossava le croci tedesche, l'ha dato tante volte del nazista, queste cose. In realtà, a me piacciono queste robe qua, non me ne frega niente del significato, a me piacciono solo gli argomenti. E c'è molto la storia, mi sono informato un po' anche per queste cose. Tante volte la gente non va a fondo alle cose e quindi quello che vede, bam, pensa, etichetta subito. Tanto c'è, allora ti spiegano, c'è Roby che scrive impossibile addomentarsi la guida con pezzi così, butterò gli gli stecchini. E poi c'è Stefano Gottari che dice un saluto a tutti i ragazzi in studio. Ciao Stefano, ciao. Oh Stefano, benvenuto. Intanto, è bello vedervi, vedete l'ergevi qua in chat. Vedete che se siete in tanti qua facciamo una bella puntata epica. Allora, dicevate appunto riguardo a... No Stefano che ringraziamo, è il nostro, la nostra etichetta fondamentalmente. La logic. Esatto. Barra Street Symphonies che è più Oscar comunque che... Oscar. Però anche Stefano comunque segue queste cose qua. Solutiamo anche Oscar prima e dopo se vorremmo parlare delle registrazioni. e parleremo di quanto è santo Oscar. Ne abbiamo già parlato, a dire la verità, con gli After Apocalypse i vostri conterrani i bresciani, che anche loro hanno raccontato del cane di Oscar che ama urinare sulle batterie delle brand. No, questo... Quello che loro l'ha fatto e quindi nel senso il cane ci ha apprezzato alla fine. Bene, allora voi siete simpatici, no? Ci apprezzano i cani. Dogs of War. Dicevo appunto che si parlava di Militaria, no? Perché sai che ci sono gli appassionati di Militaria. E appunto dicevamo prima, no? Logicamente quando si parla di guerra, insomma, certe parole fanno ancora male, giustamente. Ci mancherebbe. Ma comunque la canzone Final Solution comunque... Cioè il nome Final Solution deriverebbe da un pezzo di Zack Wilde. Sì, esattamente. Suonava bene e quindi ha detto... Sì, era abbastanza sovversivo perché appunto c'era anche la questione del fatto che potesse essere discutibile come nome. Allora mettiamocelo dentro che comunque si nota. A volte ci spaventiamo per certi nomi, ma voglio dire... In Italia circolano nomi tipo Cadaveria o Cadaveri Crematorium. Grandi Cadaveri, grandissimi. Greencore. Sempre tantissime soddisfazioni. No, siamo davvero dei bravi ragazzi, andiamo a messa tutti i giorni, due volte. Ho la barba e i tatuaggi, ma sono una brava persona. Lui infatti non ha tatuaggi, non ha barba. E sono una pessima persona. Va bene, dai, allora. Ascolti i musicali, quali sono e quanto influenzano il vostro sound? Poi parliamo anche di Empty Walls. Yes. Prego. Allora, diciamo che... È bello contestualizzare anche a quello che è stato lo sviluppo del nostro album, perché il nostro album è... abbiamo cominciato a scriverlo praticamente nel 2011, quando ci siamo formati con i primi pezzi iscritti. E infatti tante cose che abbiamo letto nelle nostre recensioni è che il nostro album è difficile da etichettare sotto un unico genere. Sembra un mix di generi in cui risalta magari più l'altro. E tutto questo dipende anche da quelli che sono stati i nostri ascolti, da quella che è stata la nostra evoluzione per quanto riguarda l'ascolto dei gruppi che ci piacciono. Quindi se noi siamo partiti con... Se noi siamo partiti con uno stampo più di appunto Melodic Death svedese, poi anche quello che è venuto fuori il Prog, il Gent che è venuto fuori negli ultimi anni, è qualcosa che ci ha condizionato negli anni successivi per quanto riguarda la composizione dei nostri pezzi. E poi, per poi arrivare alla fine, quando è entrato Mario, a mettere dentro anche una grossa componente melodica che può essere più riconducibile magari a Symfony X. Io sono, musicalmente parlando, sono nato con cantanti molto più melodici. Ascoltavo proprio roba alla Bon Jovi, Freddie Mercury, quella roba lì. Avevo paura che parlasse di Gigi D'Alessio. No, 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 no. Ma c'è anche una componente di Gigi. Se ascolta bene, nella quarta traccia tra il quarto minuto e il... Se la fai andare al contrario senti lui che dice le domeniche di agosto quanta neve che cadrà. Conosciamo i pezzi male. Malissimo questa cosa. Sì, ho cercato di portare un attimino più quello che è il mio stile, che mi sono fatto poi con gli anni, perché ho preso... fondamentalmente non ho preso tante lezioni. Sono andato un po' a lezioni dal mio fratello, Gian Battista Manetti. E niente, poi in realtà ascoltando i cantanti che mi piacevano, mi sono un po' formato e ascoltando roba appunto alla Russell Allen dei Symfony X. Poi sono andato a recuperare anche Ronnie James Dio, che amo. Quindi bene o male, quello è il mio genere. Però mi piace un sacco ad esempio Corey Taylor. Io adoro Corey Taylor. Sia con gli Sleep Not, ma ancora di più con gli Stone Sour. Quindi è un po' un mix di quello che mi veniva in mente. Adoro voci belle e cattive, ma anche voci pulitissime alla Michele Luppi. Quindi sì, ho cercato un po' di mettere insieme tutto e portare al meglio. Quello che riuscivo a fare, in realtà, anche perché è stata la primissima... Questo album, a parte un paio di miei pezzi che mi sono registrato io, è l'insieme del mio primo lavoro, diciamo. Cioè non avevo mai scritto niente a livello melodico e quindi devo lavorare. Questo è un album più di carattere, di mie impressioni, più che di tecnica o cose varie. Ho capito. Niente, visto che c'è anche Stefano, parlavamo prima di esperienza di registrazione, volete parlare un po' di questa esperienza con Oscar? Prima di tutto grazie Oscar, grazie e scuso sulle due parole fondamentali. No, Oscar è stato veramente un santo con noi perché ci ha aiutato a raggiungere quello che era la nostra aspettativa, quello che era il nostro obiettivo. Siamo stati lì veramente tanto tempo a curare ogni dettaglio della produzione del nostro album, della registrazione e vi dicendo. Sono state tante tante le serate che abbiamo passato insieme per ricercare veramente quel sound, ricercare veramente quello che volevamo dai nostri pezzi del nostro album. E poi, vabbè, la questione più grande per cui lo ringraziamo è il fatto che, differentemente da una band classica, noi abbiamo, ci siamo separati con il nostro cantante alla fine della registrazione della parte strumentale. Che culo! Le nostre strade sono separate e lì... Di solito è la fine del disco, no? No, esatto. Abbiamo voluto recuperare la situazione per evitare che appunto ci fosse la separazione alla fine dell'album. E Oscar, beh, lo ringraziamo perché ci ha detto, ragazzi, lasciamo il progetto in stand-by, finché non trovate un nuovo cantante. E i pezzi strumentali sono registrati, poi, quando trovate qualcuno che... Fate le parti vocali. Fate le parti vocali. Io conoscevo Mario per appunto dei progetti precedenti, e poi perché, beh, lui è un pazzoide, quindi lo conosciamo un po' tutti. E da quando è arrivato ha fatto un grandissimo lavoro il buon caro vecchio Mario, nel senso che è riuscito praticamente a mettere tanto del suo stile su dei pezzi strumentali che forse non rispecchiavano esattamente quelli che sono i tuoi gusti. Sì, avevo un po' di paura perché pensavo volessero... Cioè, mi sono trovato veramente bene perché diciamo che mi hanno lasciato carta bianca, quindi non mi hanno dato dei margini o comunque non mi hanno indirizzato in ah, devi fare, devi cantare in questo modo o in quest'altro. Scrivi tu le canzoni, scusa. Sì, no, però... Devi sapere anche tu come fare. Già, però partendo loro... Sì, però noi abbiamo dato vincoli, per esempio canta solo in growl, piuttosto che canta solo in un certo stile... Quindi io sono arrivato e appunto mi hanno lasciato carta bianca e fortunatamente per me, parlo dalla mia parte, è andata bene così perché poi appunto questo progetto, questa band mi ha preso molto perché dopo anni in cui fai cover fondamentalmente dopo hai voglia di fare qualcosa di tuo ed è stato... è bello leggere anche recensioni positive e quindi... Ne parleremo, intanto c'è Fabio che dice Oscar ti lo viamo fess. Sì, ande. Quindi adesso possiamo dirtelo Mario, adesso smetteremo di fare audizioni a altri cantanti, cosa che comunque stiamo continuando a fare. Ah, sì, sì, va bene, va bene. No, è importante saperlo, eh. Non me la prendo. Fate come un must-take con i Megadeth che ogni tanto cambia qualcuno. Che gli gira male. Componenti ufficiali la vende 75. Peccio di King Crimson, voglio dire, di serie. Empty Walls, la canzone, ne parlavamo prima. Sì, Empty Walls... Ispirato di Pink Floyd. Come? Ispirato di Pink Floyd, no. No, no, no. No, Empty Walls è... Tornando al discorso di prima, è la canzone che descrive un po' lo stato d'animo del protagonista, tra virgolette, in quel momento. Quindi, fondamentalmente, non sa dove sbattere la testa. Arriviamo tutti a un certo punto in cui diciamo, cosa sto facendo io tra mia vita, fondamentalmente. Ah, no, you're just another break in the wall. Vabbè, più o meno. Fondamentalmente la storia è molto simile, c'è l'idea del muro. Sono dell'idea che le persone possono essere diversissime caratterialmente, ma passiamo quasi tutti dei momenti molto simili nella vita. E questo, fondamentalmente, è il momento in cui si sente perso. Quindi, dice le parole, surrounded by these empty walls, circondato da queste mura vuote, è proprio la situazione in cui non sai dove sei e non sai da che parte andare, fondamentalmente. E con Google Maps. Esatto. Tu sei qui. E poi, con l'evoluzione del disco, c'è l'evoluzione appunto del personaggio. Va bene, andiamo avanti con un'altra canzone, si chiama The Show Is On. E se siete sempre attratta dal disco Through the Looking Glass, dobbiamo sentire sempre i Final Solution.